forse non sapete che una delle fonti di guadagno più grosse da parte del comune di Genova proviene dai cimiteri cimiteri che sono lasciati all'abbandono su staglieno fanno qualche cosina di più ma sostanzialmente se ne fregano beh del resto al cimitero chi c'è ci sono dei morti se poi vogliamo anche essere credenti ci sono solo delle carcasse non c'è nulla ed ecco per questo che il comune preferisce investire in posteggi e i posteggi a me sapete cosa sembrano la sala d'aspetto per andare al cimitero e con questo pensiero sicuramente non particolarmente architettonicamente allegro vi saluto e vi auguro buon weekend